Oh, beh, a Caesar! Caesar, puoi gestire una delle sedi? Gestire cosa? Hai altri Caesar? No, solo quello. Te ne servirà qualcun altro. Mettiamoci il viaggio. Devo confermare tutto. È questa la camicia per gli incontri da fare? Sì. È sporca di sangue? No, è marmellata. Torno subito. Voglio un momento. Il locale è ancora presto. E allora? Non è disponibile. Tutto è disponibile. È un brutto quartiere. È un quartiere in crescita, figliati. Esploderà. Sentito, in crescita. No, hanno collegato il gas in modo illegale. Esploderà letteralmente. Cosa posso fare per voi? Sam, mi dispiace tanto. Aida Friedman. Sam Thurman. Sono felice di conoscerti Sam. Sam è in ritardo di quattro mesi con i pagamenti. Lo sceriffo sta già ficcando il naso. Eccellente. Davvero, mi dispiace tanto. Non gli resta che vendermi. Il Tribunale Pellinitale mi porterà via tutto. Non avrà un vaso in cui pisciare. E vanni che speggio vero. Quello di tresta dopo il bombardamento. Deve essere...